Ciao a tutti, sono Bylus del canale Bylus Film & Series, bentornati in questo nuovo video, oggi per parlare del nuovo film della Pixar dal titolo Red. Prima di cominciare però come sempre vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscritti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, è uscito il venticinquesimo lungometraggio animato della Pixar, si chiama appunto Red e lo troviamo su Disney Plus, quindi niente cinema, ce lo possiamo guardare, ce lo possiamo godere direttamente da casa sul divano in panciolle a gratis e soprattutto pagando l'abbonamento, ma insomma più o meno a gratis. Com'è questo film? Allora già dal trailer io non è che mi aspettavo un film trascendentale, è una cosa eccezionale e infatti è così. Questo Red è un film semplice, lineare, leggero, però nonostante la sua semplicità devo dire che mi ha divertito molto. Oltretutto io l'ho visto con mia figlia e di solito appena esce un film o una serie almeno, i film me li guardo quasi sempre da solo con le cuffie perché mi devo concentrare. Le serie al massimo mi guardo le prime puntate per capire come sono, come è una serie solitudine e poi me li guardo magari andando avanti con mia moglie, insomma li guardiamo anche in famiglia anche perché le serie durano un botto. Invece questo film l'ho visto subito con mia figlia di venerdì sera mi pare, usciva appunto al venerdì mattina e ho fatto bene a vederlo perché scelta azzeccata perché? Perché alla fine il target di questo film sono le ragazzine, quell'età che va dai 8-9 anni fino ai 15 probabilmente e dico questo perché parla questo Red di cose, di due cose fondamentalmente, del rapporto mamma figlia e appunto della crescita dalla pubertà al passaggio fino all'adolescenza. Il tutto condito da un tocco di magia, tocco fantastico, classico della Disney rappresentato da chi? Dal panda rosso e perché il panda rosso? Com'è la storia? Allora la protagonista è questa ragazzina di 13 anni, si chiama May, è di origine cinese, attualmente vive a Toronto con tutta quanta la famiglia e scopriamo pian piano che tutte le donne della sua famiglia hanno il potere, la facoltà di trasformarsi appunto in panda rosso quando arriva l'adolescenza. Perché? Perché una loro trisavola quando stavano in Cina ha ricevuto questo dono perché allora era considerato un dono, una benedizione di trasformarsi in questo ferocissimo panda rosso perché doveva sconfiggere dei nemici, mentre oggi il fatto di trasformarsi in panda rosso per la famiglia non è più una benedizione ma è diventato una maledizione tanto che tutte quante le donne hanno cercato oppure hanno represso proprio il panda rosso e l'hanno imprigionato, hanno tutti quanti dei pendagli oppure degli ammenicoli dove è richiuso lo spirito di questo panda rosso. Quindi il tutto è gestito in maniera molto divertente, la storia è carina come è costruita, però la cosa importante secondo me è comunque il messaggio, il messaggio che ci vuole dare questo film. Perché? Perché il panda rosso, a parte l'effetto scenico, è come se fosse un'allegoria della protagonista e la cosa simpatica è che all'inizio quando lei si trasforma e ovviamente diventa rossa e il panda è rosso, questa cosa qua viene scambiata dalla madre per il ciclo. E a me ha divertito molto sto fatto, solo che mentre lo guardavo con mia figlia, mi domandava mia figlia ha nove anni, quindi lei è ancora all'oscuro di tutto, per fortuna mai toccato, ci penserà la mamma a toccare sto argomento. Però mi diceva, papà ma perché di cosa stanno parlando? Come fa a sapere che è rosso? Perché gli sta portando delle medicine? Diceva lei che invece si è trasformato in un enorme panda, che sembrava un orsacchiotto, lei sembrava un enorme orsacchiotto e io ho detto no ma non ti preoccupare, deve essere tutto legato al film, adesso vediamo come va avanti che ci spiegano. Poi ovviamente dopo due minuti la cosa cambia e mia figlia si è dimenticata totalmente, si è dedicata solo alla storia del panda. Quindi è bella come è descritta tutta quanta la storia e appunto il panda, cioè questa esplosione che a me rappresenta proprio il fatto che lei passa da essere la bambolina di casa, bambolina della famiglia, della mamma e pian pianino si sta trasformando, sta diventando una giovane donna. Quindi c'è il conflitto con la mamma perché ovviamente la mamma è preoccupata di questa cosa, è anche dispiaciuta perché come tutte le mamme, come tutti i genitori vorrebbero che i propri figli rimanessero sempre in casa, rimanessero sempre delle bamboline, in questo caso visto che si parla di ragazze, di una ragazzina e nel momento in cui la vedi crescere insomma ti dà da pensare. E dall'altra parte invece abbiamo il ribaltamento su Mei, Mei è il contrario, Mei non vede l'ora di esplodere, il panda rosso è proprio l'esuberanza e quindi lei vuole i suoi amici, non vuole più stare da sola con la mamma, ha dei nuovi interessi, sta crescendo e fa quelle cose che fanno tutti quanti gli adolescenti della sua età, cioè racconta delle piccole bugie, si stanno organizzando, vogliono partecipare a delle feste, ha un gruppo di idol che a mira vuole andare a questo concerto come ci fanno vedere nel film, però tutto ovviamente descritto in maniera disneyana e il film è molto molto leggero, è molto molto basico, queste tematiche ci sono, vengono raccontate però appena appena pronunciate non c'è niente, cioè per dire io poi quando vedevo mia figlia che guardava il film non c'è niente da spiegare. Tutto quello che si vede nel film è diretto, sì, ma rimane nel film, anche l'altro tema che riguarda il panda rosso, cioè deve essere represso oppure no, la famiglia lo vuole reprimere, mentre me giustamente non lo vuole reprimere, perché? Perché lei non vuole nascondere i suoi capelli rossi, non vuole far finta che la cosa non esista, non vuole far vedere che non ha le orecchie, perché è nel momento massimo dell'esuberanza e la soluzione, la disney qua ce la dà subito, cioè nelle amicizie, infatti è grazie alle sue amiche che troverà condivisione, che troverà conforto, che capirà che non è lei che è sbagliata, va solamente aiutata ed è quello che poi succede nella vita reale. In pratica in sto film, cioè questo film è molto molto magari semplice e a differenza di altri film pixar, non è che gli altri film pixar siano più maturi, è che quelli riusciti meglio, penso a Inside Out, hanno più livelli, cioè se noi vogliamo leggere Inside Out come un film per bambini, possiamo prenderlo solo come un film per bambini, cioè i pupazzi, i colori, le sfere, mentre se noi vogliamo salire di livello, possiamo vederlo come un film più da grandi, più maturo, perché si parla della tristezza, si parla dell'importanza, delle emozioni e sono tutti tratti, sono tutti aspetti che solo se sei più grandicello li puoi capire, mentre il bambino a cui è dedicato il film da sette anni in su, quindi otto, nove, dieci, alla fine lui si gode i pupazzi e i colori. Ecco invece questo Red probabilmente non fa quel salto di livello, insomma non sarà geniale come Ratatouille, non sarà emozionante come Inside Out, non sarà spiazzante come Cocco, però comunque un bel film da vedere. È giusto che sia stato messo su Disney Plus invece che al cinema? Ma secondo me alla fine sì, è comunque un film in tono minore per conto mio, al cinema alla Pixar dovrebbe mandare l'altro film su cui probabilmente puntano molto di più che è Lightyear, quindi la storia vera, l'origine di Buzz Lightyear e poi ripeto io non sono uno di quelli criticoni da sto punto di vista, hanno dovuto metterlo su Disney Plus, io me lo godo su Disney Plus. Per altri magari non va bene perché devono rilanciare il cinema ma si sa com'è la storia, se te lo mettono al cinema non va bene perché costa e quindi era meglio vedere su Disney Plus, se te lo mettono su Disney Plus non va bene perché la Disney non è favorevole al cinema. I discorsi sono sempre gli stessi ma per me valgono quello che valgono. Detto questo ho detto tutto, spero che la mia recensione, che le mie opinioni vi abbiano intrattenuto e come sempre e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!